cari amici un breve video che fa il paglio e riprende quello di ieri ieri avevamo parlato della pillola della merck e che ha avuto l'autorizzazione dalle autorità sanitarie inglesi e oggi dopo appena 24 ore circa dopo la merck un altro colosso la pfizer ha concluso comunica di aver concluso la sperimentazione clinica anche la pfizer avrà la sua pillola il suo pillolone si chiamerà pax lovip e andrà presa entro i primi tre giorni dal manifestarsi dei sintomi dall'inizio dei sintomi anche questa assumibile a casa assumibile a casa e quindi più utile diciamo al vantaggio il grosso vantaggio rispetto agli anticorpi monoclonali di essere assumibile dalle persone direttamente a domicilio nelle loro case mentre invece ricordo che gli anticorpi monoclonali sono somministrati in ospedale per via endovenosa quindi anche la modalità di assunzione ha la sua importanza questa pillola della pfizer prevede un trattamento di 30 pillole il trattamento un totale di 30 pillole somministrate in cinque giorni quindi vedete che praticamente è molto simile un po la fotocopia appunto della pillola della merck e quindi era diciamo corretto quello che dicevo ieri non ci voleva tanto tanto studio tanta scienza per capire che si va decisamente in questa direzione i sieri rimarranno sullo sfondo presto ma ormai rappresentano un po un limone che è stato spremuto e quindi c'è molta stanchezza da parte delle popolazioni c'è un per dire un per usare un eufemismo scarso entusiasmo sembra che poche persone vadano a farsi la terza dose e quindi era necessario cambiare un po il registro ora lo so cosa mi direte era già tutto previsto queste case farmaceutiche hanno deciso di cambiare cavallo proprio per questo era già tutto previsto dall'inizio era una strategia tutto possibile tutto verosimile può assolutamente essere così in ogni caso questo naturalmente non lo sapremo mai non avremo mai la controprova ma la direzione è chiara un progressivo abbandono dei sieri che non verranno non spariranno naturalmente dall'oggi al domani ma rimangono un po sullo sfondo per coloro i quali desiderano appunto farseli saranno sempre disponibili ovviamente ma perdono continuano a perdere la pill anche nei confronti dei vaccinisti più entusiasti e invece la sponsorizzazione la l'uso e la vendita di queste pillole che comunque garantirà alle solite case farmaceutiche naturalmente un un altro ulteriore grosso guadagno e che appunto e sarà ormai un dato di fatto quindi piaccia o non piaccia sia casuale sia voluto sin dall'inizio è di fatto un elemento nuovo e un cambio di strategia immagino e so anche già le vostre i vostri dubbi peraltro legittimi pienamente legittimi sulla natura di questo pillola di queste pillole perché sono almeno due quella della merck e quella della pfizer sul la loro composizione eccetera non sono naturalmente in grado non ho la preparazione per poter rispondervi a delle domande sulle componenti sui componenti chimici eccetera sulla loro natura credo che al momento tra l'altro non lo possa fare ancora nessuno poi ci saranno i dottori gli specialisti i chimici chi veramente sa che cercherà di rispondere alle domande ai dubbi alle insinuazioni anche alle preoccupazioni perché chiaramente queste pillole andranno attentamente valutate però per il momento limitiamoci a segnalare proprio questo che queste pillole rappresentano un po il futuro prossimo al posto dei vaccini a posto dei sieri i quali ripeto comunque rimarranno sullo sfondo non dobbiamo neanche pensare che dall'oggi al domani tutta questa narrativa sui vaccini venga a cadere rimarranno lì un po sullo sfondo un po in secondo piano mentre verranno sponsorizzate assolutamente vendute e utilizzate sempre di più queste nuove pillole sono almeno due poi presumo che altre altri colossi farmaceutici che ha fatto delle sperimentazioni eccetera stringeranno i tempi e presenteranno anche loro i loro risultati ottenuti pillole simili chiederanno le autorizzazioni nei tempi più brevi possibili e quindi appunto avremo un panorama nuovo volevo semplicemente per il momento dirvi questo e vi ringrazio per l'attenzione vi invito a iscrivervi al mio canale e alla prossima video pillolina